Buongiorno Cristian. Ciao, buongiorno. Come ti stai trovando oggi all'evento delle opzioni? Allora, mi sto trovando davvero bene. Con Andrea ci sta un attimino spiegando tutte quelle sono le dinamiche delle opzioni. Per me è un mondo completamente nuovo, nel senso che io ho sempre lavorato su altri strumenti, Forex, Spread Trading, quindi per me le opzioni sono veramente qualcosa di nuovo. Però mi sto trovando bene, sto iniziando a capire un po' di dinamiche delle opzioni. Da quanto tempo ci stai seguendo? Sono un paio d'anni, un paio d'anni che mi seguo. Ho iniziato con Matteo, con lo Spread Trading, ho fatto un primo anno di rodaggio con un conto demo e poi da un anno a questa parte ho aperto un conto reale e sto portando anche i miei primi risultati. In generale con l'assistenza broker come ti trovi? Mi trovo molto bene, perché tutte le volte che ho avuto dei problemi strettamente legati o all'operatività piuttosto che alla piattaforma, piuttosto che magari a delle semplicissime domande, ho sempre trovato dall'altra parte delle persone pronte a rispondermi e a darmi una mano, un aiuto nel risolvere tutta una serie di problematiche che magari diversamente non sarei stato in grado di risolvere. Ok, grazie. Quindi saresti propenso a consigliare l'assistenza broker? Assolutamente sì, tra l'altro io ho consigliato anche a un po' di amici e continuerò a farlo, perché in un mondo di gente poco serie, ce ne sono tantissimi poco serie in giro, non voglio fare nomi, è difficile trovare gente che ti aiuta, ma veramente ti aiuta col senso proprio di aiutarti col cuore, e non solo perché magari c'è un interesse economico alle spalle. Io tutte le volte che ho chiamato ho alzato il telefono, ho sempre trovato qualcuno che mi ha risposto, al di là del fatto che la consiglierei assolutamente. Grazie, allora spero che tornarei a trovarci. Assolutamente, grazie a voi. Se anche tu vuoi partecipare a uno dei nostri eventi e passare qualche ora insieme nel nostro ufficio per conoscerci meglio e stringerci la mano, contattaci a info-assistenzabrokers.it e riceverai tutte le informazioni. Noi ti aspettiamo!